ma prima quella lì poteva essere nostra Dio ci lancia dei messaggi C'è un lente per cui ti si sa io vedo la zona Che zoom gatto Che non tessi spaccate Linguine, io devo fare una spaccata Ok ci sono Hai messo che regista al contrario Si, no, ci ero rotto il video dopo Gira la televisione Esatto Ci sono proprio due fiocchetti eh Ah? Ci sono due fiocchetti che scendono Dove? Il pezzo l'hai ritrovato Ho spazzato cadendo il pezzo Lo troverai prima di là? No, l'ho piantato là Fuori pista E mi dice Dio saltami 11 Mi sento che se Dio batta la manetta Ma vieni di qua a camminare che è più facile Ah? E' più facile di qua Un pomeriggio di fatica Hai la neve, è fresca E cammini in pista come gli scenatori No E' inaccettabile Qua piove Nel tempo che scendevo pioverà Beh spero, guarda perché non lo vedo più Perso Va bene E' pazienza, lo doveva succedere No E' pazienza Si L'unico L'unico Sì. 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 Com'è Andrea? Molto bene adesso. Da Nicola. Bene, bene, alla grande. Stiamo facendo molta fattura. E penso a salire. Penso a salire. No.